In questo video vi parlerò di un proiettore smart con sistema operativo Android, Bluetooth 5.0 e addirittura Wi-Fi 6 per avere una connettività davvero al top, ma anche tante altre funzioni. Ve ne parliamo subito dopo la sigla. Ben trovati amici qui sul mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un proiettore smart con sistema operativo Android che vi permetterà di fruire di tutti quanti i contenuti in streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, iPlay, insomma chi più ne ha più ne metta, ma addirittura dotato di una connettività top Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6, dunque rete molto molto veloce e che tra l'altro vi permetterà anche di poter usufruire dei protocolli AirPlay Miracast così da trasmettere le immagini dai vostri dispositivi smartphone, tablet, PC. Penso per esempio a chi si trova nella condizione di dover effettuare una presentazione PowerPoint, una conferenza magari e quindi a distanza, stando in piedi, lavorando tranquillamente, può proiettare le immagini davvero con estrema facilità. Tra l'altro ci sono altre caratteristiche, come quella per esempio di essere un proiettore che ha una risoluzione di 720p, ma vedremo anche su YouTube, riesce a supportare tranquillamente il Full HD e tra le altre cose ha una luminosità di 450, anzi lumen, non è elevatissima, però come vedrete si vede molto molto bene al buio, ma in realtà si vede anche bene in luoghi luminosi. Ragazzi, prima di procedere alla recensione, permettetemi di ringraziare lo store cinese Geek Buying che mi ha inviato questo prodotto, ci collaboro da tempo, è uno store affidabilissimo anche dal punto di vista della garanzia, nessun problema, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione per poter acquistare il prodotto, si trova a circa 150 euro e tra l'altro vi ricordo che Geek Buying ha proprio questa particolarità spedendo all'estero, ecco che lei già include quelli che sono i costi di dogana e quant'altro, quindi il prezzo che vedrete in fase di acquisto, quello è non avrete sorprese una volta che il prodotto sarà arrivato a casa. Ripeto, ci collaboro da tempo, soprattutto per console e altri prodotti, ma sono in arrivo recensioni di altre cose, tra le quali una e-bike davvero top. Insomma, seguitemi anche su Instagram perché questi contenuti possono essere davvero molto molto interessanti per voi. Vi lascio anche il prodotto sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto, così con un piccolo codice potrete risparmiare qualcosina sul prezzo, insomma ragazzi continuate a seguirmi e mi raccomando rimanete incollati a questo video per la recensione. Procediamo allora all'unboxing di questo proiettore. Confezione si presenta in questa maniera, davvero minimal, con il logo del proiettore stesso, lo vado ad aprire, lo vediamo comunque ben protetto da questa gomma, diciamo così, vado a tirare fuori ed eccolo qui. Mettiamo momentaneamente da parte, all'interno troviamo il manualetto di utilizzo, ma comunque è davvero semplice e poi andando a togliere ulteriormente questa protezione secondaria troviamo il cavetto di alimentazione che è un classico bipolare, quindi anche molto semplice da collegare e infine oltre al certificato di conformità troviamo il telecomando. Andiamo ad aprire prima di tutto lo stesso e guardiamo come è fatto. Eccolo qui, davvero bello, assomiglia molto a quello della Apple TV, fatto molto molto bene. Al suo interno ovviamente non ci sono batterie, dovrete metterle voi e non ci sono neanche all'interno della confezione. Apriamo adesso il proiettore, andiamo a vedere subito il frontale. Beh, qui è un po' deludente, perché? Perché non ha la protezione per la lente, o meglio ha questa plastica, ma non è una plastica permanente, capite? Non è una plastica che va a coprire proprio l'obiettivo in maniera fissa, quindi è protettiva soltanto per il trasporto in confezione. Comunque la vado a togliere. Qui vedete abbiamo un sensore. Nella parte inferiore abbiamo il filtro antipolvere che si va ad aprire tramite questa vite e poi sostituire. Si trova tranquillamente su Geek Buying. Vite da un quarto per poterlo mettere su un cavalletto, ulteriori informazioni. Lateralmente abbiamo le prese d'aria per far uscire tutto quanto il calore, perché ne genera. E nella parte posteriore abbiamo diverse porte. Andiamole a vedere. Anzitutto porta per l'alimentazione, IR, sensore per il telecomando, anche nella parte posteriore. Abbiamo il jack per le cuffie, abbiamo l'uscita AV per collegarlo sui vecchi televisori, abbiamo due porte HDMI in risoluzione full HD e una porta USB per poterci collegare pennette, per poter andare a vedere video scaricati appunto sulla pendrive oppure anche audio, perché lui può riprodurlo. Ha delle casse effettivamente, anche se non sono proprio il massimo e dopo lo vedremo. Nella parte superiore invece abbiamo il tastino di accensione e di spegnimento. Detto questo vado a mettere le batterie all'interno del telecomando e poi lo metteremo in funzione. Cercheremo anche di capire se lui con questo tasto può fare un po' di tutto oppure è necessario il telecomando. Perfetto, eccoci qui, stiamo provando proprio il proiettore, schermata iniziale, scelta della lingua. Vi dico subito ragazzi che lui si va a settare in automatico, scelta della lingua inglese, poi abbiamo le altre, vediamo se c'è l'italiano. Eccolo qui. Andiamo a confermare, proiettore Android come vi dicevo e questa è la schermata principale. Guardate, si presenta come un classico box Android per la proiezione di contenuti in streaming sul tv, tra l'altro ottima la risoluzione, luce spenta, chiaramente sono ad una distanza di circa 5 metri dal muro, quindi si vede comunque molto molto bene. Prima di andare a vedere un po' il tutto, le applicazioni che ci sono, che poi sono le classiche, le vedete Netflix, YouTube, Disney+, eccetera. Entriamo un attimo nelle impostazioni. Prima di tutto andiamo a scegliere una rete Wi-Fi e guardate, lui rileva chiaramente sia le reti a 2 GHz sia quelle a 5 GHz. Lo vado a connettere, vi ricordo lui ha il Wi-Fi 6, quindi anche molto molto veloce. E allora, rete connessa, torno indietro, vedete abbiamo anche le impostazioni del Bluetooth per poter andare a collegare dei dispositivi, Bluetooth vi ricordo 5.0. Possiamo andare ad impostare, ecco la proiezione, guardate, posso cambiare i valori, andarlo ad invertire, questo ci serve ovviamente qualora andassimo a collegare il nostro proiettore sul soffitto. Possiamo andare a variare anche questi valori, il keystone per esempio, possiamo metterlo manuale, guardate, questo ovviamente in base anche all'angolazione del nostro proiettore. Ecco, guardate, ho raddrizzato l'immagine, posso andare a zoomare, posso andare a ripetere anche la messa a fuoco e così via, posso andare a cambiare altri parametri, ovviamente le traduzioni non sono proprio il massimo. La lingua, quello che avete visto prima, impostazione della data e dell'ora, impostazione dell'applicazione, qui troviamo le applicazioni predefinite, installate o meglio quelle di sistema. Possiamo andare a effettuare anche degli aggiornamenti, per esempio l'aggiornamento in linea, ma già vedete che lui praticamente è l'ultima versione locale, tramite porta USB e ripristinare i contenuti a quelli di fabbrica. Altre impostazioni, abbiamo, vedete, la scelta della sorgente di avvio, nel senso se vogliamo farlo avviare tramite HDMI 1, HDMI 2, AV. Altre opzioni di accensione, lo spegnimento programmato ed il timer all'avvio dello screensaver che possiamo anche disattivare. Possiamo andare a settare anche una modalità di immagine, vedete è partito l'audio in automatico, ci mostra delle immagini automatiche e noi possiamo andare a scegliere anche i colori da utilizzare. Provo, visto che mi trovo, ad alzare al massimo il volume. Beh, comunque sia, come avete sentito, è anche abbastanza potente. Tenete conto che io sono a due metri con il microfono dal proiettore. Comunque, ottima modalità per la scelta delle immagini. Torno indietro, possiamo anche cambiare la modalità audio, guardate notizie, musica, film, sport, utente, standard, per ora lasciamo così, e il controllo del volume. Torniamo ancora indietro e qui abbiamo le informazioni di sistema. Anzitutto, vedete, ha un giga di memoria, fa riferimento alla memoria RAM. Abbiamo 8 giga di memoria ROM, quindi possiamo andare ad installare le applicazioni fino ad 8 giga. 3,99 sono già occupati dal sistema, ma anche da altre applicazioni. Torniamo finalmente indietro ed eccoci tornati subito alla home. Per esempio, andiamo ad aprire YouTube, andiamo ad aprire il mio canale, andiamo a prendere magari uno degli ultimi video, prendiamo questo e andiamo a vedere la qualità dell'immagine, anche se abbiamo avuto una prova prima, quando abbiamo regolato proprio il tutto. Il video è partito, ma essendo YouTube posso andare a regolare anche le impostazioni della qualità dell'immagine. Vedete, automaticamente si è settata su 720p, posso andare fino a 1080p, anche se il video è registrato in 4K, ma chiaramente questo dipende anche dalla risoluzione del proiettore, che riesce proprio a supportare queste risoluzioni. Vado ad alzare ancora il volume, e comunque sentite che l'audio si sente molto molto bene e soprattutto non distorce anche quando è alzato al massimo. Insomma, devo dire che comunque sia è un proiettore davvero ben realizzato, soprattutto il fatto di avere Android a bordo, quindi di avere applicazioni come Netflix, applicazioni come Prime Video scaricabili, eccetera, lo rendono davvero completo. Tra l'altro, ragazzi, lui è dotato anche di connessione diretta wireless con smartphone sia Android sia smartphone Apple. Di conseguenza possiamo andare a condividere tranquillamente lo schermo. Guardate, sto utilizzando AirPlay, lui mi è comparso, i share, e poi posso andare a lavorare proprio tranquillamente sul mio dispositivo. Come vi dicevo, un proiettore completo da tutti quanti i punti di vista. Vado ad aprire le mie app e posso tranquillamente condividere lo schermo. Ovviamente questo, ragazzi, è possibile farlo anche con tablet. Di conseguenza, qualora voleste effettuare in Wi-Fi una presentazione oppure proiettare delle immagini perché state facendo una conferenza o quant'altro, potete farlo tranquillamente. Insomma, avete visto, un proiettore che fa il suo dovere, funziona molto molto bene, mi è piaciuto tanto anche l'autofocus che va subito a calibrare il proiettore sul muro che abbiamo di fronte, la possibilità di agire anche con il keystone così da regolare gli angoli e quant'altro in base all'inclinazione. Mi è piaciuto il fatto che è un proiettore che può essere anche attaccato sul soffitto così da poter ruotare l'immagine e il fatto di avere un sistema operativo Android con una connettività Wi-Fi 6 Bluetooth 5 che rende il tutto molto molto più veloce, ecco, ci permette di fruire di tutti i contenuti in streaming dei quali siamo abbonati, ad esempio, in maniera davvero semplice, facile e soprattutto ricordate che potrete portarlo sempre con voi. Inoltre, mi è piaciuto anche il fatto che sia dotato di protocollo Miracast, protocollo AirPlay, così da sfruttare i vostri dispositivi mobili per riprodurre le immagini, effettuare il mirroring, cosa davvero eccezionale, pensate, come vi dicevo, a chi magari deve effettuare una conferenza, deve proiettare una presentazione, può stare tranquillamente all'impiedi, farlo dallo smartphone, farlo dal pc, dal tablet e quant'altro. Insomma, un proiettore completo, si vede molto bene anche in luoghi illuminati, quindi nessun problema da questo punto di vista e rimane un dispositivo consigliato. Torno a dirvi il link qui sotto in descrizione, acquisto su Geek Buying e codici sconto sul mio canale Telegram delle offerte. Intanto ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao! Grazie a tutti!